Oggi mangiamo pochissime specie vegetali, si contano quasi sulle dita di una mano. Certo alcune le mangiamo perché sono più buone di altre, ma che fine hanno fatto quelle che oggi non esistono più nei mercati? E quelle che mangiamo derivano dalla nostra scelta o derivano dal fatto che c'è qualcuno che ha scelto che quelle varietà, quella frutta, quella verdura, dovesse arrivare nelle nostre tavole? Mi sono chiesto questo, per farlo indagato andando in giro per l'Italia, per l'Europa, per capire come in alcuni casi la frutta, la verdura che noi mangiamo è figlia di scelte di grossi gruppi industriali che detengono la proprietà genetica, cioè che hanno inventato quelle varietà che noi troviamo nel mercato e detengono il controllo di tutta la filiera, cioè dalla risorsa genetica fino ad arrivare alle nostre tavole. Decidono perfino gli agricoltori che devono coltivarla e che non devono coltivarla, cioè hanno il controllo totale della filiera. Questo vale per molte delle mele, per i kiwi, per l'uva, se pensate ormai all'uva senza semi, che il piatto diciamo è il tipo di frutto che noi più preferiamo. Ma tutto questo sta degenerando un imbuto dentro un mercato in cui decidono sempre meno persone. L'altra domanda che mi sono fatto è, ma che fine hanno fatto tutte quelle varietà che sono scomparse dalle nostre tavole? Ecco, sono state rinchuse molte di loro dentro queste gigantesche banche del germoplasma, nate proprio per fare in modo che la biodiversità non sparisca. Sono andato sulle isole Svalbard, nel polo nord, lì esiste un capo dove vengono conservate migliaia e migliaia di semi a temperature bassistime, ma ne esistono anche in Italia, esiste quella di Bari, esistono tante altre e non sempre funzionano come dovrebbero. Per cui noi abbiamo una biodiversità che è nascosta dentro queste banche e che mai verrà riutilizzata, è una biodiversità che invece è controllata completamente dai mercati che hanno costituito questi club a cui hanno accesso solo i fortunati agricoltori che possono coltivare a prezzi esorbitanti queste materie prime. Il libro indaga tutto questo, si interroga su cosa noi possiamo fare, quali sono le scelte che ognuno di noi può fare, prima di tutto nel conoscere quali sono i rischi di un sistema controllato da poche industrie genetiche in giro per il mondo. Grazie.